Buongiorno a tutti. Faccio questa diretta perché mi corre l'obbligo di spezzare una lancia in favore del network marketing. Non se ne può proprio più della disinformazione che danneggia lavoratori entusiasti ed onesti. Sul web, nei siti in cui si cerca e si offre lavoro, si legge quasi sempre non lavoro online, non network, solo lavori seri. Ma perché? Il network non è un lavoro serio. Ma chi te lo dice che non è un lavoro serio? Ma falla finita. Ora te lo spiego io come funziona. Hai mai sentito parlare di network marketing? Lo sai che milioni di persone nel mondo guadagnano grazie al network marketing? Lo sai che da quando siamo nati facciamo tutti attività di network marketing? Da quando sei nato fai vedere agli altri quello che ti compie e che ti piace, giusto? Cosa fai quando compri un prodotto che ti piace? Non te ne rendi conto ma fai pubblicità e molto probabilmente sai cosa succede? Che il tuo amico si è comprato quel prodotto e l'azienda ha aumentato così il tuo fatturato. Di fatto hai lavorato per l'azienda senza saperlo. Ora ecco come puoi guadagnare grazie al network marketing. Esiste un'azienda che da oltre 50 anni premiano i propri clienti a vita con il denaro per il semplice fatto che svolgono un'attività di passaparola. Un'azienda che vende il proprio prodotto tramite del network marketing è un'azienda che non investe nella pubblicità in tv ma preme i propri consumatori per aver passato l'informazione ai nuovi consumatori. Non devi fare il porta a porta ma saranno i tuoi amici a fare il lavoro per te grazie al passaparola. Ti chiederai quanto si guadagna? Con il network marketing si può guadagnare anche tantissimo perché i tuoi amici ti permetteranno di creare una struttura enorme di nuovi clienti proprio grazie al concetto di duplicazione. Per questo l'azienda ti premierà in continuazione per anni. Questo sistema legale di vendita si chiama anche multi level marketing. Mi chiederai ma se è legale e si guadagna perché non lo fanno tutti? Per due motivi. Uno perché pochi sanno di cosa si tratta e due perché molti guardano la cosa con sospetto perché ci sono state tante truffe su attività simili al network marketing. Ti chiederai ma come posso essere sicuro che mi pagheranno? L'azienda ti metterà a disposizione gratuitamente una pagina web personale per poter monitorare la tua struttura di clienti e i tuoi guadagni li vedrai dal vivo. Ti chiederai ancora come fare a sapere se un'azienda di network marketing è realmente valida? Un'ottima azienda deve avere questi requisiti. Un ottimo prodotto, almeno 4 anni di vita, un semplice e sostenibile piano marketing ed una sede legale nel paese in cui opera, ovvero pagare le tasse in quel paese. I prodotti più sicuri sono quelli di largo consumo che tutti già usano e quindi tu non hai bisogno di creare un bisogno nella gente. Negli anni 90 il network marketing ha prodotto più di 100.000 milionari. Oggi questo numero è praticamente raddoppiato. Tutto bello, vero? Però esistono purtroppo anche sistemi piramidali illegali, tipo la catena di Sant'Antonio, il sistema Ponzi, eccetera, in quanto non hanno la base nessun prodotto e quindi non è giustificato lo scambio di denaro. Il network marketing è tutelato, se tu non lo sai, dalla legge 173 del 2005, che tra l'altro punisce questi sistemi con l'arresto da sei mesi ad un anno e con sezioni che vanno da 100.000 a 600.000 euro. Ecco, spero di aver fatto un minimo di chiarezza a coloro che non sapendo di cosa parlano, sparano giudizio ad minchiam, danneggiando chi lavora con passione in questo campo. Se qualcuno volesse saperne di più può contattarmi via WhatsApp al 338 90 9872 o scrivermi via mail propongonuobusiness.gmail.com. Con questo chiudo, vi ringrazio, se avete avuto la pazienza di ascoltarmi e fidatevi, il network marketing può solo migliorare in positivo la vostra vita. A me lo ha fatto. Ciao a tutti, alla prossima.